Siamo pronti. Mi viene da dire, dopo un anno intenso, siamo arrivati dove dovremmo arrivare, Allora, è tempo di dare ufficialmente inizio a questa speciale cerimonia, do il benvenuto alla cerimonia di consegna dei diplomi alla classe MAC, quindi a me di tre. Passeremo la parola a una testimone esterna, una professionista, in particolare l'amministratore delegato di Crestidra Ondi, la dottoressa Monica Magrassi. In questo momento, pensiamo ad un'altra cosa e chiediamo anche a voi di farlo, è un momento in cui entrate, qualcuno di voi forse ce l'ha, se magari l'ha fatto da Trinale in Bocconi, ma se non è così, con il tipo di diploma che sarà lì, con il pezzo di carta in mano, entrate a far parte della grande famiglia, forse non tanto, però comunità di allunni dell'Università Bocconi. Popolo Francesco Poi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti